Ciao ragazzi Ben ritornati in questo nuovo video E oggi siamo un video su Roblox In una mappa diversa In quale noi non dovremmo essere Assassinati da quelle cose Si ovviamente Io avrò qualcosa Cosa serve questa roba? Oh Bello No, non l'ho più Z No 83 Ma è più comunque Quanto qua? Ah no, questo qua Ecco, giunto un boss No, speed boss Le gravity No 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 Sì 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 No Togliti Dio mio Non lo vogliono No Ah, ecco Z Oh mio Dio Perché dovremmo Succedere Ma siamo tutti qua No No Ci speravo No Eccole dove sono le casse Dove sono le mele Le pelle Le pelle Le pelle Si Comunque ragazzi Mi ero scordato che stavo Registrando Beh Mi ero dimenticato Ecco perché stavo zitto Eh sì Comunque Ritorniamo al gioco Le mele servono per comprare cose molto belle Sono molto belle Come ho detto Molto belle Niente io devo cadere Chi se ne frega di loro Andiamo a compare Andiamo a compare Compiar Quanto costava? Ah ok Oh grazie Ah ok Quanto ho? Certo E quanto costano le gravity No Però Ah sì Bastante faccio zetta Gravity 150 153 Vai Ce ne compriamo Ho le gravity Ho le gravity Quelli si accendano Ho le gravity ragazzi per fortuna che ho le graviti andiamo a prendere un po' di mele no arrivo io arrivo io prima non mi aspetta ma il primo è lui ma il terzo non è nessuno non c'è nessuno 45 devo arrivare a 150 150 un numero alto non c'è nessuno 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 ma non c'è nessuno 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 Quattrocento, le gravity Ah Ecco, no cazzo Sword Invento Allora Si lo so che da un bel po' che non sto Perché io ogni tanto mi dimentico che sto registrando Ovviamente Voi Dopo che farò il video Metterò Dove vi potete scrivere Io guarderò sempre Guarderò sempre la chat Però tranne quando devo andare a dormire Se vado a dormire Dico vado a dormire Bom Chiuso lì Praticamente Mi sa che tra poco vado a dormire Non so che cosa voglio fare Allora, perfetto A 70 Posso già comprare una cosa Se corro Corri 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 105 Oh Oddio Oddio No, ma sono mie di zona Begano solo mie Begano solo mie No, 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 no 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 It's Ma no, meglio pensavo che Adesso 70 Vedete Sulla C 50 Io qua nello 70 Apriamo un attimo Lo shop Apriamo lo shop Lo so ragazzi Da un fastidio assurdo Shop Speed bus Perfetto Io praticamente adesso potrei fare questo Se io vado sul mio inventario Interior pack Che cos'è? Ah, capito, capito Come faccio? Entra Come Ce l'avevo fatta Qua João Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah C incomplete Ah Gho Gho Ah 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 I got to the swing Lo so che mi sentite un po' Ma è questo che la mia voce sto parlando normale E' praticamente totalmente troppo forte il microfono delle cuffie che fa sentire un bordello Oppure sono io che mi sto avvicinando al microfono delle cuffie E quindi... ah si ok 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 Speriamo che vincano I got to the swing Zia mi sa che devi saltare Oggi ci devi saltare sopra Rimangono soltanto loro due in vita Che cosa faranno? Uno ha cambiato il posto l'altra cerca di cambiare il posto E ce l'ha fatta Si rincomincia Chi è che sbrana dei due? Quella dove c'è la... la lama E adesso vediamo chi arriva Prima ho la roccia Dove cazzo sta andando zia? Mi sa che devi incominciare a scappare Ah no Vediamo chi resta in vita Perché lui andrà ad attaccare a lei Lei scappa Ovviamente L'uccide Non la uccide Perché lei usa il super boost Quindi se ne va via E non è morta ragazzi Nooo Allora qua è cambiato raga Aspettate Vediamo se è cambiato Si è cambiato Precisamente Allora io Quello E quello Quellino Ok ragazzi Ci svegliamo Perfetto Ci siamo svegliati E comincio ad andare Nella prima isola Ah in realtà io me ne vado Questa Nooo Che palle È vero Hai gatto È vero Mi dispiace zio Nooo Non so che mi sto sto dando Ma nooo Non doveva succedere adesso Minghi Mi dispiace Grazie a tutti. Oh, qua è pieno, raga. Qui è pieno, ragazzi. Come vi ho detto prima, metterò la chat. E se voi mi scrivete, adesso è arrivato il mio fratellone, che non è ciccione. Ciao, Luca. Grazie per i 30. Grazie, grazie, grazie. Nooo, dobbiamo andare in my boost. Perfetto, se moriamo, moriamo insieme. Pogliti. E la rischio di oro. Madonna. No, 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 prendimi a me, non prendermi a me, non prendermi a me. Oh, non mi ha preso a me, per l'amor del cielo. Oh. Mi pensavo di essere morto. E sto su questa. Ma che questa qua non diventa ghiacciosa. Non mi colpire e non diventare ghiacciosa. No? Nooo, porca soia. Nooo. Perché mi devono sempre rompere questi qui. 101? 103. 150, non posso comprare le. Grazie, grazie. Climb e Dona. Quanti ho? Vai, spendi. Sono entrato. Perfetto. Prepariamoci. Vai, incominciamo ad andare. Via, 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 via. Ok, vai, 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 vai. Gatto. Gatto. Oh no, ragazzi, dove vi metto l'audio del gioco? Perché, raga, metto l'audio del gioco perché... Ma per... Ah, ok, ok. Sì, va bene per voi. Siamo rimasti in tre. Perfetto. Chi vincerà? Non me, non me, non me. Perfetto, perfetto. Perfetto. Sì, ho vinto io, ho vinto io. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, il primo. Hai gatto. Allora, chi vincerà? Io non scendo da qui. Perfetto. Ci sono sottato più quattro zattele. Chi prenderà per primo? Ok, perfetto. Alle nostre due zattele è incominciato. Ma io, ovviamente, incomincio. Ci spostiamo nelle due altre isole. Io e lui. No, anzi, io resto qua. Madonna. Non prendere questo, non prendere questo, non prendere questa. Sì! Non ho preso questa. Neh. Non prendere questo, non prendere questo. Perfetto. Chi rimarrà in vita? Io, ragazzi. Non è possibile. Noi due ci dobbiamo assicurare la vita. Sì! Sì! Abbiamo vinto tutte e due! Sì! Bravo che sei arrivato terzo. Sei arrivato secondo. Bravo, bravo. Complimenti. Siamo gli unici due rimasti. Evviva la vita! Ok, vai, rigiochiamo ancora. Io sono pronto. Io sono super pronto, ragazzi. Siamo soltanto più due in due. Ma in quanti siamo qua? In due! In due! Ma io sono livello venti. Ah no, io sono livello quattro. Non prendere me. Non è perfetto, non l'ha preso me. No! Per colpa mia! Cacchio! Però, dai! Me la so alcavata! No, ma aspettate! No! Oh! Ragazzi, non mi funziona più! Non mi funziona più un gazz! Dio mio! Cosa è successo? No! 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 Stiamo sempre sulla nostra isola. Ma vi trovo io, raga! Ma che pro che sono! Sono un protista! Schiaccio itz per usare i miei... In quanti siamo? No, se l'ha andato lui. No! Ci deve essere qualcuno dentro! No! Ci deve essere qualcuno dentro! Sono rimasto sotto io, non mi apre più un cazzo! Perché sono diventato... Ah, no! Non so, non è diventato rosso! Cosa hanno scritto in chat? Buongiorno! Buongiorno! Ragazzi, per questo video conclude qua! Ciao ragazzi! Cioè, allora... Ciao ragazzi! Beh, eh... Non so più parlare, perfetto! Ci rivedremo un altro video domani... Non so se è di pomeriggio... Beh, comunque ci ritroveremo domani... Alle 5 di pomeriggio... No, alle 7... No, alle 5 di pomeriggio... Farò un video in quale... Voi mi potrete parlare... Visto che voi non entrerete in questo video... Tra poco dovete andare a dormire... Quindi... Per questo video è tutto! Ciao ragazzi! Ragazzi, per questo video è tutto! Quindi... L'ho già detto perché lo ridico... Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!